Il gioco termina quando e se troviamo un giocatore superiore a Erling Haaland Il primo giocatore su 5 possibilità Luca Cone Super punta anche nel Prime ha sempre segnato tanto Ma no, preferisco Erling Haaland Secondo giocatore, vediamo chi capita Facciamo stare, no Terzo giocatore, terzo giocatore Vediamo se scalza Erling Haaland No, ne mancano due Ne mancano solo due, vediamo cosa succede adesso Quarto Eh, ma qui parliamo top 5 della storia Top 5 della storia Al momento, Young 5, tutta la vita